Sono stati momenti di paura quelli vissuti dai familiari di una bimba di 13 mesi di Caltanissetta. Fortunatamente, dopo lo spavento iniziale, le condizioni della bambina sono in miglioramento. La piccola era stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo nel primo pomeriggio di sabato, dopo un primo soccorso all'ospedale Sant'Elia, dove era arrivata in preda a delle convulsioni e a una crisi respiratoria. I medici di guardia si sono accorti subito delle gravi condizioni della bambina, così hanno chiesto l'intervento dei rianimatori, che l'hanno subito intubata. Successivamente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Cristina di Palermo. L'elicottero, infatti, a causa delle condizioni climatiche avverse, non ha potuto alzarsi in volo. La bimba, inoltre, sottoposta al tampone Covid, è risultata negativa. In realtà la bambina, di soli 13 mesi, ha inalato cibo nei polmoni. È questa la causa delle convulsioni della conseguente crisi respiratoria. Per fortuna le condizioni della bambina sono in miglioramento. Infatti si è risvegliata e domani dovrebbe uscire dalla terapia intensiva per continuare l'adegenza nel reparto di pediatria dell'ospedale di Cristina.